Abbiamo messo il terzo pallone d'oro consecutivo, davvero straordinario per l'argentino. La vittoria di Palermo, Mimmo Malfitane, una l'avezzi che è tornato anche a Napoli, poi ci dirà tutto Diego De Luca. Roberto, Carlo Alvino, fino al 21... Ma allora Giade Gregorio, ti prego, te le... ...pazzire tutti. Senti Franco, quando all'interno di un gruppo a meno 10 da Juve Milan Cavani dice non mi accontento del terzo posto, vuol dire che il gruppo crede a qualcosa in più? ...vi ha fatto a Cavani, secondo me... Quanto sia difficile fare il calcio in una città come Napoli, De Laurenti si sta portando dei risultati straordinari. Segnali positivi e risultati direi molto importanti. Sì, risultati importanti per... ...isci di Canale 9, allacciate le cinture di sicurezza, stiamo per decollare. Sì, possiamo entrare nel vivo dell'argomento di oggi con la scheda a cura di Gigi Ermetto. Eccola qui! Buonasera, 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 buonasera. Buonasera, buonasera. Che piacere! Mi è bello. Tutta di fortuna in questo 2012. All'anno nuovo, vita nuova, a quanto pare. Che vuol fare? Volere stare qui? Vuol dire qualcosa? Posso fare delle domande all'avvocato Siniscalchi? Erano anni che aspettavo... Come no, Paolo? Sì, mi accomodo, mi accomodo. Rischetti, prego, si metto da qui. Si metto vicino all'onorevole. Ed Vargas, presentato oggi pomeriggio a Napoli col presidente dell'Arentis. Lo ascolteremo. Cercheremo di capire se, alla luce dell'arrivo di Vargas, così come abbiamo chiesto agli amici da casa Mazzarri, potrebbe o meno cambiare modulo con l'arretramento di Amsic a centrocampo. E soprattutto, ma l'arrivo di Vargas, ce lo chiedono in tanti, io lo chiederò al nostro parterre. È il preludio alla partenza di Lavezzi a giugno? Ne discutiamo tra due minuti e torniamo. C'è l'appuntamento tradizionale dell'Uedì. Arrivato Vargas in Italia, supercolpo del Napoli, presentato oggi, tra poco vedremo l'arrivo di Vargas. Presuppone la partenza del Pocio Lavezzi e poi la seconda domanda, Mazzarri cambierà modulo. Entriamo allora in tema EduVargas, tra poco lo facciamo ascoltare. Mimmo Malfitano che viene a trovarci. Come stai? Ci ha molto sorpreso. Perché Panorama viene fuori a dicembre su una vicenda già notta? Ricano e Franco Porzio, è lì, sposteremo il tiro su Cremona, Doni arrestato, Sartorro arrestato. Senti Carlo, io l'ho letto con grande attenzione questa inchiesta dei colleghi di Panorama, che per carità fanno il loro lavoro. Leandro Del Gaudio lo ha scritto sul mattino, tre mesi fa, quattro mesi fa, cinque mesi fa. Perché? Questo che bisogna fare da colleghi e colleghi ai complimenti. Il filmato, perché oggi a un certo punto, ero con Diego De Luca alla radio, ci ha chiamato praticamente l'Italia. Per sapere di questa vicenda noi cadevamo dalle nuve. Guardiamo il filmato. E ha trovato chi ha postato, chi ha postato. Le creano, non voglio dire sospetto, ma le creano un pensiero diverso, perché certo il Napoli fa seguito poi a quello che succede. Il furto a casa Cavani. Qualcuno addirittura ha ipotizzato un collegamento. Mi sembra di capire che non ci sia nessun disegno criminale. In quel supermercato rompono i vetri delle macchine ogni giorno a chiunque va. Quindi non c'entra niente la voglia di dire. Però posso aggiungere una cosa? Il drama scrive sarebbe stato intercettato. E comunque come terza persona, quindi non come... ...è stato anche Mimmo Malfitano. Lo sarà così. Che linguaggio forbito che usano... No, scherzo. Non può essere definito nemmeno. Abbiamo Di De Santis. Tra poco il calcio mercato. Pubblicità. Orecchiette, sasicce e fiaria. Buonissimo. A qui è di buono. Trovarci un collega che è molto giovane ma è molto bravo ed è molto preparato. È il collega del mattino di Napoli, Leandro Del Gaudio. Beh, insomma, è un motivo veramente di orgoglio e di vanto averlo avuto su questo palco. Io l'ho chiamato mente, freggio di essere suo amico da tanti anni. E io ci tengo a dire una cosa, visto che stasera è qui con noi. Il tempo è sempre galantuomo. Franco! Qui è la Patron Security. Beh, scusami Paola, io non ho ben capito la posizione di domani. La posizione di domani è la posizione 10. Quella che dobbiamo... E' la 73 potremo seguire alle 14 e alle 21. Avete assistito a una puntata del Kamasutra stasera in Italia. Supercolpo del Napoli presentato oggi. Tra poco vedremo l'arrivo di Vargas. Presuppone la partenza del Foccio Lavezzi. E poi la seconda domanda. Mazzarri cambierà modulo. Entriamo allora in tema Eduvargas. Tra poco ve lo facciamo ascoltare. Mimmo Malfitano che viene a trovarci. Come stai? Ci ha molto sorpreso. Perché Panorama viene fuori a dicembre su una vicenda già nota? Evidentemente. E' lì, sposteremo il tiro su Cremona. Doni arrestato, Sartoro arrestato. Senti Carlo, io l'ho letto con grande attenzione questa inchiesta dei colleghi di Panorama. Che per carità fanno il loro lavoro. Leandro Del Gaudio lo ha scritto sul mattino, tre mesi fa, quattro mesi fa, cinque mesi fa. Perché? Questo che bisogna fare da colleghi colleghi ai complimenti. Ho filmato perché oggi a un certo punto ero con Diego De Luca alla radio, ci ha chiamato praticamente l'Italia. Per sapere di questa vicenda noi cadevamo dalle nuve. Guardiamo il filmato. E ha trovato chi ha postato questo video su. E creano, non voglio dire sospetto, ma le creano un pensiero diverso. Perché certo, il Napoli fa seguito poi a quello che succede. Il furto a casa Cavani. Qualcuno addirittura ha ipotizzato un collegamento. Mi sembra di capire che non ci sia nessun disegno criminale. Guarda, il fascicolo è documentato. In quel supermercato rompono i vetri delle macchine ogni giorno a chiunque va. Quindi non c'entra niente la voglia di dire. Però posso aggiungere. Anche a Napoli, poi ci dirà tutto Diego De Luca. Roberto, Carlo Alvino, fino al 21... Ma allora, Gian De Gregorio, ti prego, te le... ...pazzire tutti. Senti, Franco, quando all'interno di un gruppo a meno 10 da Juve e Milan, Cavani dice, non mi accontento del terzo posto. Vuol dire che il gruppo crede a qualcosa in più. ...che ha fatto a Cavani. Secondo me... Quanto sia difficile fare il calcio in una città come Napoli. De Laurenti sta portando dei risultati straordinari. Segnali positivi e risultati, direi, molto importanti. Sì, risultati importanti per... Comunici di Canale 9, allacciate le cinture di sicurezza, stiamo per decollare. Sì, possiamo entrare nel vivo dell'argomento di oggi con la scheda a cura di Gigi Ermetto. Eccola qui! Buonasera, buonasera, grazie. Buonasera, grazie. Buonasera, buonasera. Come no, come no, Paola, allora... Sì, mi accomodo, mi accomodo. Fischetti, prego, ci metto da qui, ci metta vicino all'onorevole, di Edu Vargas. Presentato oggi pomeriggio a Napoli col presidente della Rentis. Lo ascolteremo, cercheremo di capire se, alla luce dell'arrivo di Vargas, così come abbiamo chiesto agli amici da casa Mazzarri, potrebbe o meno cambiare modulo con l'arretramento di Amsic a centrocampo. E soprattutto, ma l'arrivo...